Musica Ancora lui, migliore in campo Alessio Napolano migliore dei suoi Alessio partiamo provati, la partita non è andata bene Hanno vinto Yavanna Club Come è andata? Dobbiamo migliorare ancora qualcosina di presa Soprattutto E da lì diciamo che Sbagliamo, anche se sbagliamo in attacco Però gli errori difensivi sono più gravi Non arrivano buone parle per gli attaccanti Soprattutto Però stiamo lavorando State migliorando Stiamo lavorando tanto Stiamo migliorando Perfetto Speriamo di vederti di nuovo sui campi della Summer Cup Alessio Ci fa solo piacere Anche a me Ciao, alla prossima Ciao Ragusa, ancora un migliore in campo Grande bomba per te Dotato di un grandissima bomba Grandissimo tiro Oggi solo due Però grande vittoria per Yavanna Club Hai giocato più di squadra Com'è andata la partita? No, è andata bene Anche perché Finalmente abbiamo trovato Diciamo un gioco Adeguato alla nostra squadra Comunque Ci sta ancora da lavorare Però Penso che potremmo Classificarci Abbastanza Una buona posizione Comunque Il girone del sabato A nostro avviso è uno dei più tosti Dei quattro gironi Se non il più difficile Anche all'orario Un po' Eh lo so Ci faceva un po' caldo A mamma è solo un po' caldo Figuriamoci In bocca al lupo Comunque a Yavanna Club Grandissima prestazione per voi oggi Ciao Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima